90 chilometri 90 chilometri di lunghezza e 5.000 metri di dislivello. Giovanni Monteri ci porta fino alla base delle tre cime di Lavaredo per un ultratrail da brividi sulle Dolomiti. Nella notte della ultratrail di Lavaredo si decide la gara. I migliori procedono spediti verso il traguardo, mentre per la maggior parte dei partecipanti l'imperativo è avanzare senza farsi male, risparmiando le forze. Sono un po' distrutto, però penso di farci. Quasi sei ore, altre sei e forse mezzogiorno arrivo. Il nostro Giovanni Montini è sul percorso per raccontarci le emozioni di un'avventura per spiriti forti in sintonia con la storia di questa terra. Sto partendo dal rifornimento dell'Hotel Cristallo, è già giorno, è giorno da poco. I primi sono già passati da almeno due ore, erano provati perché chiaramente la notte è stata lunga e soprattutto fredda. È stata emozionante, questa è la mia prima gara. È un cielo stellatissimo, la luna e tanta fatica. Poi a un certo punto sulla discesa mi sono spazzato un bastoncino e sono cadute. Un po' di scorrazione al ginocchio e poi si riparte. Spettacolare vedere tutte le luci quando ti giravi, tutto il cordone a salire. Poi l'ho accompagnata da Roby, che è la mia anima a tre ile. E quindi sono veramente felice perché mi ha fatto una compagnia, mi ha tirato una buona parte della gara, e sto veramente in gamba. Mentre per i più le prime luci dell'alba hanno illuminato un percorso ancora in gran parte da completare, i primi sono già arrivati al traguardo. La gara è veramente dura. Un percorso fantastico, le difficoltà principali, soprattutto la notte, con la luce, non essere abituati. Soprattutto in discesa, io vengo dallo Skyrunner, in discesa si è abituato a tirare, e cercare di recuperare i minuti persi in salita. Dopo un primo tratto in piano, il bosco inizia già a inerpicarsi. Questa salita sono millecento metri di dislivello in positivo. Stiamo qua per divertirsi, anche se dovrebbero sembrare. Abbiamo visto di quelle cose stupende, anche il fatto di vedere le tracime in penombra, nella notte, e poi l'alba, una cosa unica. Non mi sono potuto allenare bene, e soffro. Anche l'inviato di Icarus si avvia alla conclusione delle proprie fatiche. I concorrenti sono partiti a mezzanotte, quindi le gambe sicuramente non sono fresche, quindi è pericoloso. E più che a volte molti fanno la differenza, riescono a recuperare, non a correre sciolti, cercare di fare girare bene le gambe. Un'esperienza intensa, a pagarti. Arrivare al traguardo di un ultratrail da 90 km è sempre un bellissimo traguardo. Lavaredo ultratrail, versione 90 km, una gara affascinante, tecnica, una cartolina a 360 gradi intorno alle trecimi di Lavaredo, una gara da consigliare sicuramente.